Il cantone di Afrin, in Rojava, è stato invaso e saccheggiato con l'operazione lanciata dalla Turquia chiamata Ramoscello d'Ulivo. Ebbene, la sua popolazione non si è resa, anzi ha continuato a resistere e a combattere, sia contro il dittatore Erdogan che contro i jihadisti alleati in Siria. Ora però ci sono centinaia di migliaia di sfollati, uomini e donne che hanno bisogno di tutto, di beni, prima necessità, medicinali, cibo, acqua. Noi possiamo fare un gesto concreto e un gesto di solidarietà, sostenerli. Come? Attraverso la campagna internazionale Siamo Afrin. Possiamo donare fino al 2 giugno e trovate tutte le informazioni su Facebook, su Twitter per contribuire. Facciamolo tutti e tutte, siamo Afrin.